Robert Gucker, un inizio di campionato più difficile del previsto, due punti in tre partite senza gol fatti, diverse cose che non stanno andando, quali in particolare? Sicuramente mancano i punti e i gol fatti, sicuramente su questo punto di vista dobbiamo essere più cattivi, più lucidi davanti alla porta, più convinti di essere una buona squadra. Sicuramente siamo partiti come volevamo, però non vuol dire niente, nel senso che il campionato è lungo, noi lavoriamo duro in settimana per fare prima o poi la prima vittoria che ci darà sicuramente una fiducia enorme. Ti era già capitato in carriera di partire, come nel caso del Pisa, con i favori del pronostico e trovarti in un momento di iniziare difficoltà? Ma sì, in un campionato o lo trovi subito all'inizio la difficoltà o durante il campionato o alla fine. È normale che ci sta un periodo che non puoi vincere tutte le partite. Noi siamo partiti sicuramente con Olbia e l'ultima partita a Monza che sicuramente dovevamo fare punti in più. Col Siena, più in là, sono convinto, tornando indietro, che sarà un punto d'oro. Dobbiamo analizzarla come stiamo facendo durante le settimane, di migliorare su certi punti di vista, sicuramente poi saranno periodi migliori a livello di punteccio o di successi che ci porteranno sicuramente l'entusiasmo e la fiducia che ci serve in questo momento. Facevi riferimento alla partita di Olbia. Da un punto di vista psicologico, credi che quella sconfitta, anche per come è arrivata, abbia forse un pochino inciso sul vostro morale, sulle parti successive, dover vincere? No, non penso, perché se andiamo a vedere ad Olbia siamo partiti benissimi, poi non abbiamo sfruttato le occasioni, loro con un tiro ci hanno fatto il gol, col Siena in casa magari abbiamo sofferto un po' di più, ma loro comunque, ci sono anche gli avversari che erano messi benissimo in campo, ci hanno messo in difficoltà, lo dobbiamo ammettere. E invece a Monza abbiamo reagito alla grande, a livello di voglia di vincere, di mettere la voglia in campo, la giusta cattiveria, come diciamo. Poi dopo, prima o poi, quando uno prende un po' di fiducia, con un gollo, con una vittoria, sicuramente il singolo uscirà fuori meglio e sicuramente tutto il sommato sarà più bello da vedere. In questo momento non dobbiamo essere belli, ma cattivi e concreti. Quindi non pensi che ci possa essere il rischio di avere un po' di ansia da favorita, di dover per forza vincere, non pensi che possa esserci questo pericolo? Poteva esserci adesso in questi tre partiti, adesso andiamo a vedere che la capolista viene da noi settimana prossima, vuol dire che noi non siamo favoriti. Sicuramente noi in questo momento dobbiamo guardare di migliorare e di andare a prendere le altre squadre che stanno sopra noi, perché in questo momento non siamo noi favoriti, sicuramente non dobbiamo essere così presuntuosi, perché il campionato ci ha fatto capire già che i favoriti non ce ne stanno, perché anche altre squadre che sono partiti da favoriti fanno fatica. Questo campionato è fatto così, è importante essere uniti e crederci in ogni partita di poter vincerla. Quando le cose non vanno benissimo, il primo a rischiare è sempre l'allenatore, personalmente credo che in questo momento sia prematuro mettere in discussione Gautieri, però ti chiedo come vi state trovando con lui e che tipo di allenatore ha conosciuto? No, noi ci stiamo trovando molto bene, perché abbiamo visto un pre-campionato dove c'era l'entusiasmo, le belle giocate, eravamo belli, ma perché abbiamo affrontato delle squadre che ci hanno fatto giocare? La Serie B è un altro campionato. Adesso le squadre ci aspettano, ci vengono a aggredire subito, forti, corrono come i matti, come dobbiamo fare noi, e sicuramente ci abbiamo messo adesso col Siena la partita, che ci ha fatto capire di più che ci sono anche squadre forti, ben messe in campo, con dei giocatori importanti. E questo ci deve far capire che questo è un campionato dove non dobbiamo essere belli, come eravamo magari in pre-campionato, ma dove dobbiamo essere cattivi e concreti e portare i punti a casa. E questa è una mentalità su cui stiamo lavorando. Lavorando molto, il fatto dell'allenatore, non ci sono assolutamente problemi o cose varie, è normale che è il primo che viene messo in discussione, il calcio è fatto così, ma siamo noi i primi responsabili perché in campo ci andiamo noi, e poi possono essere i moduli, possono essere i singoli, se non si va tutti insieme per una direzione si fa fatica. E per questo non sono preoccupato per nulla, perché vedo la gente che ha voglia, basta vedere l'azione di Umberto all'ultimo minuto di rigore spagliato, per quanto ci deniamo di far bene. E questo è lo spirito che ci deve portare, poi prima o poi arriveranno i frutti. Hai usato una serie di aggettivi, per chi come te la serie ci l'ha già vinta, credo fondamentali in questa categoria, cattiveria, spirito, voglia, fame. Forse, l'hai già detto in parte, ma ci vorrei far ritornare, da questo punto di vista, soprattutto state cercando di lavorare, anche se poi queste caratteristiche bisogna averle, ma si possono anche migliorare, ci state lavorando. Sì, stiamo lavorando molto, perché è normale se tu esci palla al piede da dietro, inizia la giocata dal portiere, è normale che provi a fare delle giocate, ma certe volte le squadre avversari, oppure se ti aspettano tutti dietro, non ti permettono di giocare dentro l'area di rigore loro. Dobbiamo cercare anche di tirare da fuori, di non essere belli con le giocate, uno o due cose varie, no, salti l'uomo e calci in porte, di essere concreti e cattivi, e magari sei un meno bello a livello di gioco, però a livello agonistico comunque ci metti tutto in campo quello che c'hai. Tra gli aspetti positivi di Monza ho visto una squadra anche atleticamente, fisicamente un po' più reattiva, è stato così, insomma anche secondo te ti ho visto anche molto dinamico, spesso spronare i tuoi compagni, fra virgolette un po' anche arrabbiarti quando c'è da arrabbiarsi, chiaramente sei uno dei giocatori che ha più esperienza e personalità di questa squadra. Ma sì, sono cose, non è una cattiveria, è un segnale da dare che ci dobbiamo crederci, perché siamo là, siamo là, finalizziamo e portiamo la vittoria a casa. È un segnale che deve essere dato da ogni giocatore che sta in campo, anche da quelli che subentrano, perché comunque abbiamo visto anche quelli che sono subentrati gli ultimi dieci minuti ci hanno dato una spinta in più ancora per andare vicino al gol. Una volta sploccati magari avremo meno difficoltà di segnare, sicuramente ci darà una grande fiducia, ma sicuramente a livello fisico il fatto che è uscito anche il discorso dopo la seconda partita col Siena non penso assolutamente a un problema fisico, perché su un campo del genere andare oltre i 95 minuti ad attaccare, e attaccare sicuramente stiamo bene. Poi singolarmente ognuno accusa la preparazione diversamente, questo sicuramente è un fatto, uno l'accusa la stanchezza un po' prima, uno un po' dopo, però non ci sono assolutamente problemi. A centro campo hai giocato praticamente quasi con tutti i tuoi compagni, anche in partiti ufficiali, da Maltese, col quale a volte vi eravate intercambiati, di Quinzio, Izzillo, è arrivato De Vitis. Come sta procedendo l'intesa in un reparto che non a caso viene definito nevralgico? No, sempre meglio, sempre meglio perché capiamo le distanze, capiamo anche il compagno di che pasta è fatto, nel senso a livello tecnico, a livello di movimenti in campo. Sicuramente è un reparto importante, dove ognuno di noi può dare il suo contributo, chi viene chiamato in causa sicuramente farà il suo, ma non è solo il centro campo, perché deve collaborare benissimo con la difesa, in fase difensiva e anche in attacco con dei inserimenti o dei movimenti dei attaccanti. Se non si lavora insieme sicuramente si fa fatica, però questo non è un motivo di cui essere preoccupati, perché secondo me la squadra è ottima, la squadra è viva e questo sicuramente è una partenza, sicuramente non come ci siamo aspettati magari, però sicuramente il campionato è lungo e non vuol dire niente. Preparano le partite, lì dobbiamo essere bravi, magari come abbiamo fatto già spesso anche con Maltese ultimamente, che veniva a prendere il posto mio, io vado via, prepariamo anche noi la partita giustamente, sicuramente se le squadre affrontano la partita come è stato adesso a Monza, se hai un po' più di spazio e magari riesci a fare qualcosa in più a livello TE, se no io comunque anche quando a livello personale, chi si trova poi davanti alla difesa lì, marcato dal trequartista, è importante che il trequartista non faccia una bella partita, penso che questo è il primo obiettivo, perché alla fine Mediano davanti alla difesa prima di tutto pensa a difendere, pensa a chiudere gli spazi davanti alla difesa, dare una mano ai difensori, e penso che abbiamo preso pochi gol fino adesso, abbiamo anche segnato i pochi, però abbiamo preso i pochi, e questo è sicuramente un fatto che a livello difensivo stiamo migliorando, sicuramente concediamo ancora due o tre contropiedi che ci mettono ogni tanto in difficoltà, su questo stiamo lavorando, però è normale se tu attacchi, 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 che certe volte loro lasciano anche due o tre alti per poi ripartire, è normale che lì dobbiamo essere svegli e concentrati su questo punto di vista, ma come ho detto prima su questo stiamo lavorando molto, è importante trovare delle soluzioni, perché se veniamo marcati, i centrocampisti soprattutto, ci sta anche la palla lunga su Umperto e andare sulle seconde palle, come ultimamente abbiamo cambiato un po' il metodo di giocare, e questo intendevo prima di giocare meno belli, però concreti davanti, stai sempre nella metà campo loro, e prima o poi per forza la splocchi, come a Monza siamo andati molte volte vicino. Io penso in quel momento lì sicuramente è un colpo pesante, però passa, cioè passa nel senso il giorno di riposo, martedì riparti con l'entusiasmo e con la rabbia giusta di voler vincere la prossima, e di voler soprattutto per gli attaccanti o per qualsiasi giocatore di sploccarsi, se ti fa sploccare la squadra, fa finalmente il primo gol, questo sicuramente. In quel momento abbiamo visto la delusione, ma è una delusione che secondo me fa capire quanto ci teniamo tutti quanti, Umberto per primo e noi tutti quanti dietro, perché sicuramente adesso tornando in dietro è inutile parlare se magari avrebbe fatto gol, non esiste, abbiamo portato un punto a casa, sono due partite che magari adesso non perdiamo, però ci dobbiamo sploccare, cercare di arrivare alla prima vittoria. No, in quel momento sono andato, io sono personalmente subito andato da Umberto, che l'abbiamo alzato, perché è un giocatore fondamentale, che quando prende fiducia e si splocca, sicuramente ci darà ancora più mano, come ha fatto già adesso. E poi dopo mi sono girato, ho visto i giocatori dietro la porta, là, verso i nostri difosi, e questo sicuramente è un fatto che non... Ma per rispetto, anche nei fronti dei nostri difosi, che non è giusto esultare, che magari lì si vede il calcio, se segnava stavamo esultando noi, insieme ai nostri difosi. Ha spagliato, hanno festeggiato loro in faccia a noi, e non è giusto questa cosa. C'è rispetto, infatti i giocatori anche del Monza hanno capito subito la situazione, hanno chiesto anche scusa a noi in campo, perché era capitato là, il portiere si sono venuti tutti addosso, l'hanno portato un po', sicuramente un fatto. Però è un fatto che, come difendono loro a noi, difendiamo anche noi a loro, e questo è un segnale che anche noi dobbiamo stare uniti, come ho detto già prima. Ultima cosa che ti chiedo, domenica arriva la Viterbesi, l'hai già detto, nove punti nelle prime tre partite, che partita ti aspetti, e cosa ti senti di dire ai tifosi, un po' delusi, e anche comprensibilmente preoccupati, di questo inizio? Ma che devono stare tranquilli, e ci devono dare una mano, come l'hanno fatto fino adesso, perché a fine partita, ognuno è libero di fischiare o di applaudire, questo è lecittimo, perché chi paga il biglietto, a fine partita, è importante che durante la partita, i ragazzi che stanno in campo, vengono sostenuti, e poi anche dalla stampa, a fine partita, sicuramente, se si va tutti per la stessa direzione, sicuramente, c'è più possibilità, probabilità di far bene, perché poi siamo tutti umani, nessuno entra in campo per far male, o per perdere la partita, e questo sicuramente è un dato importante, perché ho conosciuto i ragazzi, non ci sta nessuno che va contro qualcuno, o che non sta bene qui, questo è un fatto che, dove dobbiamo andare sicuramente tutti, nella stessa direzione, per raggiungere gli obiettivi, sia nei alti, che nei bassi, perché se partivamo con nove punti, come sta la Viterbese adesso, non era fatto nulla, e nel senso, non c'era, non doveva diventare un entusiasmo, e ci ha vinto il campionato, perché poi arriva il momento, delle sconfitte, o delle non vittorie, e lì sicuramente fai un po' di fatica, è importante l'equilibrio giusto, da parte di tutti, soprattutto nei 90 minuti, perché lo stadio, all'arena, deve diventare un campo difficile, per tutte le squadre che vengono qui, e questo dobbiamo, dipende da noi, ma dipende anche dai spalti, che ci daranno, come hanno sempre fatto, una grossa mano. Sulla Viterbese? La Viterbese, ancora adesso, ci riprendiamo gli allenamenti, abbiamo visto già, quando abbiamo giocato di lunedì ad Olpi, abbiamo visto la prima partita, sicuramente un'ottima squadra, se hanno fatto nove punti, le prime partite, sicuramente un motivo ci sarà, hanno segnato tanto, hanno preso tanti gol, su questo punto di vista, prepariamo sicuramente benissimo la partita, però sicuramente siamo noi che dobbiamo andare a prenderli loro, perché sicuramente sono loro le favorite adesso, è cambiata la ruota, è girata, però sicuramente il campionato è lungo, adesso tocca, sicuramente a loro vogliono sicuramente venire qui a fare risultato. Hanno nove punti, noi abbiamo due, vuol dire qualcosa in più dobbiamo fare, e sicuramente sarà la partita, potrebbe essere la partita giusta per riprendere la fiducia che ci serve e fa quel passo importante di magari vincere contro la capolista.